Musica Cari telespettatori benvenuti al primo dei quattro approfondimenti che dedicheremo al piano comunale di emergenza, al piano di protezione civile. Questa sera inizieremo a parlarne con il sindaco di Fano Massimo Seri, buonasera sindaco. Buonasera e buonasera a tutti i telespettatori. E con Saverio Livi, presidente del Cibi Club Mattei di Fano, associazione di volontariato di protezione civile. Buonasera Saverio. Buonasera a tutti. Sindaco, iniziamo a dire che questo approfondimento ha proprio l'obiettivo di informare i cittadini, quindi ognuno deve sapere cosa deve fare e che cosa non deve fare in caso di emergenza. Sì, noi abbiamo approvato il nuovo piano di protezione civile, uno strumento importantissimo nelle emergenze quando si vengono a creare. La storia ci insegna che un cittadino informato è un cittadino che si aiuta nei soccorsi nel modo migliore. Un cittadino disinformato che non sa come muoversi nel caos rischia di aggravare già la situazione difficile che si viene a definirsi nelle emergenze. Il sindaco, fra l'altro, e l'autorità locale di protezione civile ha un compito importante, anche quella di informare la cittadinanza. E noi abbiamo preso alla lettera perché siamo convinti dell'importanza della formazione, dell'informazione alla cittadinanza, sugli strumenti che si hanno a disposizione, sulle casistiche che si vengono a creare. Abbiamo iniziato un percorso con l'informazione attraverso delle assemblee che abbiamo fatto e faremo nella città, con delle esercitazioni e pensiamo che anche attraverso questi approfondimenti sia un'occasione importante per dare spiegazioni e per far conoscere cos'è la protezione civile e come funziona anche nella nostra città. Ovviamente prima di approvare questo piano c'è stato uno studio, ci sono stati degli approfondimenti dietro. Esatto, intanto spieghiamo cos'è la protezione civile, che non è un'istituzione ma in realtà è un insieme, è una sinergia di forze che ci sono ai vari livelli, a cominciare dal cittadino fino ad arrivare alla protezione civile nazionale, passando per la regione e ovviamente attraverso il comune. L'ente comune è l'ente che ha il ruolo, sotto certi aspetti, più delicato perché è il più vicino al cittadino, è quello che interviene immediatamente quando si creano situazioni di emergenza. Ma un lavoro importante è anche quella della prevenzione e quella di non farsi mai trovare impreparati. E su questo noi abbiamo lavorato iniziando con un'indagine di quelli che possono essere i rischi nella nostra città. Sono di diverso tenore, di diverso tipo, alcuni più gravi, alcuni meno, ma dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza. E una volta fatta l'analisi di quelli che possono essere i rischi, bisogna attraverso il piano di protezione civile individuare quelle che sono le risposte, quelle che sono i comportamenti, quali sono le strutture che si mettono a disposizione. Olivio, quali possono essere questi rischi? I rischi sono diversi a partire dalla semplice alluvione che noi ne abbiamo di frequente, oppure nevicate, il terremoto in modo particolare, il rischio sismico è imprevedibile, l'esondazione in pratica, le frane o le dighe, le mareggiate sulla costa sono diverse, in pratica le situazioni che si possono venire a creare. Il piano di protezione civile le ha previste tutte, c'è stato uno studio molto particolare e attento, e quindi aprendo il piano di protezione civile, ognuna di queste cause ha una soluzione studiata per il territorio, e quindi basta dare atto a quello che c'è scritto perché non si inventa in pratica subito come si risolve un problema, viene dall'esperienza ma viene anche da quello che è stato scritto perché a volte noi non riusciamo neanche nel fattore sismico ad esempio ad essere pronti e attenti perché abbiamo i nostri guai in casa, e quindi chi arriva da fuori e prende il piano sotto mano c'è già scritto esattamente come, dove, quello che deve fare. Il sindaco appunto si avvale anche del centro operativo comunale inaugurato in via Vallo Borsellino pochi anni fa. Sì, volevo precisare ancora un aspetto, questo nuovo piano di protezione civile arriva anche con l'esperienza che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, dove siamo stati sempre bravi e siamo stati sempre all'altezza della situazione, ricordo la vicenda della bomba dello scorso anno, ma anche la neve, dove effettivamente c'è stata una tempestività, una capacità organizzativa che ha dato delle risposte con efficienza e puntualità. Partendo anche da quelle esperienze, modificando anche alcuni aspetti critici che abbiamo evidenziato, abbiamo messo veramente a punto senza sottovalutare alcun aspetto nel nuovo piano di protezione civile. Quando diventiamo operativi, quando c'è un'allerta, quando c'è un'emergenza, il sindaco attua il COC, che è il centro operativo comunale. Noi abbiamo un bel centro operativo comunale che ci invidiano un po' in tutta la regione e abbiamo dimostrato, come dicevo anche alle vicende ultime, che è stato uno strumento, una struttura veramente fondamentale nell'organizzazione degli interventi. E qui, devo dire, noi abbiamo una specificità. Ovviamente quando attiviamo il COC, attiviamo tutti i soggetti che svolgono dei ruoli nella protezione civile, nel soccorso e nell'intervento. Nel caso specifico, noi abbiamo anche inserito tutta una serie di figure, a cominciare dai dirigenti, dai responsabili dei vari servizi dell'amministrazione comunale, che non tralasciano alcun elemento, a cominciare da quelli che seguono i servizi sociali, perché per esempio in un'emergenza bisogna intervenire anche quelle persone che sono magari non autosufficienti, che si trovano in strutture. Quindi veramente abbiamo guardato tutti gli aspetti. L'altro elemento che mi piace sottolineare, di cui siamo anche orgogliosi, noi abbiamo costituito una struttura di protezione civile locale basata sul volontariato. Abbiamo qui, c'è il presidente Saverio Livi del CB Mattei, che sta facendo un lavoro straordinario e di grande professionalità, insieme ad altre associazioni come la Croce Rossa, le Giacche Verdi, l'Aeroclub per la protezione civile aeronautica. Ne potrei citare delle altre, poi rischio di dimenticarmene. Le ho citate quelle magari più organizzate e svolgono un sistema capace di intervenire a tutti i livelli. E lo abbiamo visto nelle emergenze che non sono mancate in questi anni nella nostra città, ma che ci ha dato anche la possibilità di perfezionarci ed essere sempre più preparati e pronti. E Olivia, come funziona e come è organizzato il COC e il CODMA? Sì, il COC è una sala dormiente in pratica, si attiva solo nel momento in cui c'è la necessità, appunto l'attiva il sindaco con le funzioni che ritiene necessarie. Cioè se c'è una nevicata attiva determinati soggetti piuttosto che un'alluvione. Quindi le funzioni necessarie al momento. E all'interno arrivano dal territorio tutte le necessità, quello che serve, e intorno a quel tavolo si danno le risposte. Nel caso della neve, ad esempio, è stato molto importante anche su tutto, perché poi le soluzioni si trovano con il volontariato e con le istituzioni. Noi abbiamo la fortuna di avere il CODMA qui vicino, e quindi vicino al COC, e quindi quando si apre il COC di solito l'associazione, un po' tutti i volontari, diciamo quelli pensionati che ci danno una mano nel portare avanti l'associazione a livello economico con i servizi, ma soprattutto quelle persone che come me, come altri, lavorano e però dedicano il tempo proprio per l'emergenza. In questo caso ci troviamo tutti presso la sede del CODMA e siamo in stretto contatto con il COC, e laddove serve, a noi ad esempio è stato molto importante sia l'ultima nevicata ma anche quella precedente di anni fa, perché assieme al COC viene attivato la SOI che è a Pesaro, oppure la SOP a Dancona, e siamo stati una delle poche città che non ha avuto necessità di richieste presso la sala operativa in pratica provinciale. Perché? Perché ce la siamo cavata, non parlo del volontariato e della mia associazione, ma tutto il sistema di protezione civile se l'è cavata in proprio, nel portare tutti gli infermieri medici in ospedale, piuttosto che dare una risposta a un'analisi che non poteva essere rimandata perché altrimenti passano mesi, e le richieste che arrivano dal COC verso le associazioni, verso la nostra associazione, ci prepariamo tutto l'anno per questo, non certamente per il servizio del parcheggio della caserma, è un qualcosa in più che ci permette di mantenere l'associazione, ma soprattutto per quello che riguarda i pasti, i 130 camionisti che si sono fermati al CODMA, piuttosto che coprire sul territorio tutte le comunicazioni radio per i collegamenti, anche i mezzi, i mezzi ne abbiamo diversi grazie ai doni che ci hanno fatto, la Carifano o tante altre ditte ci hanno lasciato dei mezzi che magari piuttosto che renderli indietro non li usiamo poco, quindi li abbiamo trasformati e messi a disposizione della protezione civile, questo è un po' il compito, il compito primario della nostra associazione è quello di dare una risposta breve, subito, qualora ce ne siano richieste. Ovviamente i volontari di protezione civile saranno presenti anche in quelle aree nelle quali dovranno confluire vari cittadini nel caso di emergenza, quindi sarete presenti su più fronti. Sì, diciamo che quando si attua il piano in pratica comunale ci sono delle aree e in queste aree la popolazione si deve recare presso queste aree, che poi vi spiegherà meglio nelle altre puntate, e qualcuno su quell'area poi deve andare ad accogliere il cittadino, che sia una forza dell'ordine o prevalentemente lo è il volontariato, perché ha un collegamento anche con il COC via radio, quindi va presso la zona in pratica e comunica quante persone ci sono e tutto il resto, però questo sicuramente sarà approfondito dai tecnici comunali nelle prossime puntate. Certo, quindi dicevamo sindaco, ecco il perché, l'importanza dell'informazione. Esatto, fra l'altro non abbiamo sottovalutato tutti gli strumenti di comunicazione col cittadino durante l'emergenza, a cominciare dagli organi di informazione come la televisione. Io devo riconoscere che ad esempio Fano TV è stata strategica e fondamentale, in alcuni momenti penso alla bomba, penso alle nevicate, nel comunicare anche ai cittadini, ovviamente oltre agli strumenti dei canali del sito dell'amministrazione comunale, o ai canali Facebook dell'amministrazione comunale, dove si diffondono le notizie in tempo reale, perché poi anche la tempestività diventa fondamentale. Vorrei anche spiegare come ci muoviamo quando ci sono le allerte, perché noi anche quando non si vede nulla in realtà non siamo mai fermi, siamo sempre in movimento, noi siamo sempre collegati anche con le previsioni che la protezione civile regionale e nazionale ci comunicano, siamo tutti collegati tra noi e quando... Anche con la prefettura, giusto? Per certe cose sì, ma il rapporto diretto è con la regione, con le comunicazioni che ci vengono fatte con le previsioni. Allora, qui ci sono diversi tipi di allerta e quando c'è ad esempio l'allerta gialla, noi già ci adoperiamo, siamo in una fase di attenzione, allertiamo le funzioni e i responsabili. Quando invece l'allerta è arancione, entriamo nella vera fase dell'allerta e attiviamo qui alcune funzioni e nelle situazioni più gravi attiviamo il COC in tutte le sue funzioni. Poi quando c'è il codice rosso, in realtà nasce l'operatività perché si interviene con il soccorso e questi li attiva, nel caso del Comune di Fanno, il sindaco che è l'autorità, come dicevo prima, locale di protezione civile e nel caso specifico di Fanno con la collaborazione dell'assessore con delega alla protezione civile che è Cristian Fanesi. Quando è stato inaugurato il COC, sindaco? Dicevamo recentemente... Sì, l'abbiamo inaugurato nel 2015. Quindi quando lei insomma era... Nel 2015, devo dire, con lo stupore di tutti gli addetti ai lavori, a cominciare dalla loro prefetto, dalle autorità di protezione civile regionale, perché effettivamente c'è stata un'attenzione importante, ben strutturato e lo abbiamo visto nei momenti difficili, avere una struttura di questo tipo ti agevole e ti aiuta nella operatività. Olivi, quanti sono invece i volontari di protezione civile? Poi, anche se in casi come questi, avete degli aiuti anche da altre parti. Certamente, sì. L'associazione conta 100 volontari, 98 volontari. Alcuni, tra questi operativi per la protezione civile, sono circa una settantina, circa 70. Altri si adoperano solo per i servizi e quindi vengono chiamati immediatamente. Una cosa che noi facciamo sovente, appena, come diceva il sindaco, arriva l'allerta, è il monitoraggio. Quindi ci attivano subito, l'assessore alla protezione civile ci contatta subito e non è scontato che venga fatto, perché di solito c'è un meccanismo a livello regionale, mentre invece il Comune di Fano e l'assessore ci attiva subito, quindi partono dei nostri mezzi con due o tre volontari a bordo, partono dal ponte di Cerbara, in pratica al monitoraggio della Liscia, del fiume e in pratica rendono conto via radio, che è molto importante questo servizio, passo passo in collaborazione, sempre in contatto con la Polizia Municipale, perché sul territorio, in pratica, ci relazioniamo su dove e quando andiamo, per appunto mantenere la struttura di protezione civile comunale sempre al punto stesso dove è arrivata l'acqua in quel momento, come sono le frazioni. A volte facciamo un giro per le campagne in pratica Magliano oppure Carignano, perché appunto ci sono delle segnalazioni e riportiamo con l'occhio via radio alla struttura, prima ancora che apre il COC, la situazione del territorio, questo è molto importante. Sindaco, come accennava all'inizio, farete comunque degli incontri nei vari quartieri, ci sarà anche una segnaletica ad hoc, quindi insomma anche nei prossimi mesi proseguirete in questo programma, in questo piano. Sì, noi cerchiamo di informare perché è un cittadino più informato e più è preparato nei momenti delle emergenze. C'è già in atto una segnaletica informativa e faremo anche delle esercitazioni, ma faremo anche una informazione, formazione costante anche agli operatori interni, perché non basta aver attuato un piano di protezione civile, ma bisogna conoscerlo, bisogna sempre aggiornarsi, quindi noi faremo anche della formazione interna all'amministrazione in modo tale che quando si verificano delle esigenze, delle emergenze, gli operatori sono pronti. E anche ovviamente i volontari della protezione civile, sempre pronti? Sì, sempre pronti. Noi abbiamo anche un particolare in questa città, grazie anche all'amministrazione appunto ha messo a disposizione il CODMA che si presta molto bene, aderiamo a un'associazione nazionale, anzi addirittura due associazioni nazionali, la FIL-CB che ha parecchia attrezzatura qui stoccata su Fano, quindi ne beneficia lo stesso il comune di Fano, e l'UCIS che per quanto riguarda la parte cinofila, sono due associazioni nazionali in cui noi siamo iscritti, ma soprattutto la FIL-CB ha parecchio materiale, in pratica importante, che noi possiamo, non pagando nessun affitto sul territorio, ma abbiamo la possibilità, il comune quando serve, a livello di tende, cucina, che ne so, il manitù o altre cose, lo possiamo utilizzare, questo è l'impegno che ci siamo dati con la struttura nazionale, in modo che se serve qualcosa in particolare, l'attrezzatura non basta mai, non è mai troppa in pratica. Nelle puntate poi che seguiranno, ovviamente andremo ad approfondire tutti i vari dettagli, in ogni caso Sindaco, sul sito del comune di Fano, è possibile visionare questo piano di emergenza? Esatto, quindi si può entrare nel sito, ricercare il piano di emergenza, e visionarlo in tutte le sue parti, noi cerchiamo di diffonderlo, in tutte le maniere, e in conclusione, consentitemi anche un ringraziamento, un ringraziamento a tutti i volontari, della protezione civile, delle varie associazioni, a cui facevo riferimento prima, perché hanno sempre messo il cuore oltre all'ostacolo quando c'è stato bisogno. Un ringraziamento anche a tutte le forze dell'ordine, ai Vigili del Fuoco, a tutti coloro che nelle emergenze hanno fatto la loro parte e hanno prestato un servizio straordinario, allora anche in questi momenti, penso sia giusto ringraziare tutte quelle persone che fanno qualcosa per la comunità. Grazie al Sindaco di Fano, Massimo Seria, Saverio Olivi, Presidente del Cibi Club Mattei di Fano, grazie per il vostro contributo. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. E noi ci rivediamo al prossimo approfondimento. Buon proseguimento di Sarat a tutti voi.